Una iniziativa privata per realizzare il porto turistico a patti è un'avvertenza che si perde nei tempi. La localizzazione è sempre la stessa, la foce del torrente Timeto ed il porto dovrebbe snodarsi verso l'interno con strutture commerciali e turistiche e 400 posti barca. L'investimento è di 60 milioni di euro. Il progetto, che è stato curato dall'architetto Pippo Segreto, è stato già sottoposto all'attenzione dell'amministrazione comunale su iniziativa di Salvatore Galati, l'imprenditore titolare del progetto in fila per te. Lo stesso vale per la funivia che dovrebbe collegare patti e sorrentini, altra iniziativa che si perde nei secoli. E se le prospettive legate a quest'ultima infrastruttura hanno un profilo turistico ed economico importante, lo sono di più quelle del porto, sempre che avendo le risorse economiche private si riescano poi a superare le questioni di impatto ambientale. Da tanto tempo che si parla però, insomma, ora ci sono almeno due o tre persone intenzionate a finanziare questo progetto di 60 milioni di euro. Dovrebbe essere realizzato all'uscita dell'autostrada. Che tipo di strutture verranno realizzate? A parte il porto, che rimessaggio, sono 400 posti barca, ci sono un centro commerciale, c'è un albergo di 15 piani e tante cose. Comunque a livello occupazionale è molto importante. E c'è un progetto di la funivia che da patti dovrebbe andare a Sorrentini. Abbiamo questo posto meraviglioso, questo golfo stupendo davanti alle oli e perché non sfruttarlo?